Un altro problema non sono solo i sensi, sono i ragionamenti. È stato detto ampiamente nella conferenza che molte persone quando si passa per l'offerta si fanno i conti. Aspennerichista, 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 aspetta quanto marristaro, ruo euro, va bene, ruo euro. La fede non si basa sulla matematica e sui conti, perché alcuni dicono quando passano le cose alla fede, ma i conti mi li saccio fare, se non ci arriva a Fene Mese. Infatti sta vivendo dell'economia soprannaturale, preciso. E la vedova che ha dato tutto? Non si sapeva fare i conti, era scarsa in matematica. O aveva fede che noi non viviamo delle nostre risorse, Dio è la nostra risorsa, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà.